Ciao, sono Luca Toselli. In questi giorni ho spesso analizzato la questione inerente alla Juventus, ma notavo sempre i stessi commenti sotto ogni video. Ho quindi deciso di creare un unico contenuto sulla questione da poter linkare poi a tutte le persone per non dovermi ripetere di volta in volta. Chiedo scusa a chi ha già visto questi video e ha assorbito queste nozioni, ma era necessario. Cosa rischia la Juventus Ultimate Edition Anti-Fake News? Prima di iniziare voglio sottolineare una cosa. Non ho formazione giuridica o economica. Mi sono semplicemente informato sull'argomento. Partirei quindi dalla presunzione di non colpevolezza. Articolo 27,2 della Costituzione Italiana. E vi chiedo scusa se ogni tanto butterò l'occhio qui, ma mi sono scritto tutte queste cose per essere il più preciso possibile. L'imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva. Significa che la Juventus è innocente? Che non ha fatto nulla di errato? Che tutte queste notizie sono fuffa? No, significa semplicemente che ad oggi non c'è necessità di emettere sentenze. Si tratta semplicemente di aspettare prima di trarre le conclusioni. Se hanno sbagliato, pagheranno. Come giusto che sia, tra l'altro. Quello che mi dà fastidio oggi è leggere già le sentenze emesse dal tribunale del web. Nessuno nega le indagini. Nessuno vuole battezzare la Juve come innocente. Anche perché non ne abbiamo i poteri. Però ad oggi lo è. Perché fino a prova contraria si è innocenti. Attendiamo il processo e vediamo cosa deciderà la giustizia. Quello sì, dovete concedermelo. Oggi Juventus sta lottando contro Consob e Procura di Torino. Le contestazioni della Procura, secondo Juve, non paiono fondate. Che cosa avrebbe sbagliato però Juve secondo questi due organi? Plusvalenze fittizie e rinuncia agli stipendi. Sulle plusvalenze però abbiamo già avuto un processo sportivo. Juventus, Napoli, Samp e altri club sono risultati innocenti. Il Tribunale federale nazionale il 15 aprile 2022 ha infatti definitivamente prosciolto i deferiti come annunciato da una nota ufficiale della FIGICI. Quel processo potrebbe essere riaperto? La Juventus rischia comunque qualcosa? Sì, potrebbe. Così come no. Ora tutti i faldoni sono stati consegnati e se dovessero essere trovate altre prove decisive all'interno allora sì, poi qualcosa eventualmente potrebbe muoversi. Rimane il fatto che non esiste un modo oggettivo per giudicare la valutazione di un calciatore. Juventus ha abusato del sistema plusvalenze? Sì, e anche dalle intercettazioni di Paratici e Cherubini emerge ciò. Juventus ha sbagliato ad abusare delle plusvalenze? Beh, sicuramente dal punto di vista economico questo sistema ha danneggiato i bilanci Juve ma le plusvalenze sono e rimangono un sistema lecito, non illecito. Quindi da questo punto di vista Juventus è innocente. Lato stipendi la situazione si complica un po'. Durante la pandemia 2020 Juventus ha dichiarato un taglio stipendi tra i tuoi sete serati per far fronte all'emergenza. I calciatori rinunceranno a quattro stipendi, dichiarava la società. Secondo l'accusa invece i calciatori hanno rinunciato soltanto ad uno stipendio. E gli altri tre? Gli altri soldi, sempre secondo l'accusa, sarebbero tornati nelle tasche dei calciatori attraverso un sistema di bonus pagati nelle stagioni successive. Sempre secondo l'accusa Cristiano Ronaldo dovrebbe ricevere ancora circa 20 milioni di euro di stipendio impattuiti in una scrittura segreta firmata anche dai dirigenti della Juve. Attraverso questo il titolo in borsa di Juventus è cresciuto del 5% e questo potrebbe portare all'accusa di agiotaggio. La Juventus è quindi colpevole? Come dicevamo prima, ad oggi no. Non vi è ancora stato nessun processo e non vi è ancora nessuna prova che Juventus abbia agito in maniera illegale. Anzi, tramite una nota ufficiale apparsa sul suo sito, Juventus annuncia che, nella convinzione di aver sempre operato correttamente, intende far valere le proprie ragioni e difendere i propri interessi ai societari, economici e sportivi in tutte le sedi. Ci sarà un processo che andrà a vedere, a capire se Juventus avrà agito in maniera irregolare oppure no e nel caso, se ci sarà da pagare, pagheranno come giusto che sia. C'è il regolamento e va seguito. Fine. E quindi cosa rischia la Juve a livello sportivo? Parlavamo di regolamento, no? E quindi vi lascio il link del codice di giustizia sportiva FIGC. L'articolo 31 parla di violazioni in materia gestionale ed economica. La società che, mediante falsificazioni dei propri documenti contabili o amministrativi, ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere o d'ottenga l'iscrizione a una competizione che non avrebbe potuto essere ammessa sulle basi delle disposizioni vigenti, e punita con una delle sanzioni previste dall'articolo 8,1 lettere GHIL. Vi metto in sovraimpressione i punti citati nell'articolo 8, così potete andarvela a leggere voi tranquillamente. Queste sono le penalizzazioni. Questo però non è il caso Juventus. Né le plusvalenze né gli stipendi possono aver contribuito all'iscrizione al campionato. Questo è il caso Chievo, una squadra che, senza quelle operazioni di plusvalenza, non sarebbe stata in grado di iscriversi al campionato. Non è il caso Juventus. Sono due casi differenti. Questo perché negli ultimi anni Juventus ha effettuato, grazie ad Exor e alla famiglia Elkan, due aumenti di capitale per quasi un miliardo di euro. Come evidenziato anche dall'ultimo bilancio, redatto secondo linee guida richiesta da Consob, il patrimonio netto di Juventus è rimasto positivo. Questo nonostante l'indebitamento finanziario netto e le perdite elevate oltre 200 milioni di euro. Significa che la Juventus è povera? Non può acquistare un calciatore? O non può iscriversi al campionato poiché è indebitata? No, è come dire che ho un mutuo per 150 mila euro poiché ho acquistato una casa e quindi dato che non possiedo quella cifra non ho la possibilità di andare fuori a cena per gustarmi appunto una cena a base di pesce perché io quei soldi non ce li ho e quindi non posso spenderne altri. Ogni mese continuerò pian pianino a cercare di ridurre quel debito e nel frattempo proverò a godermi la mia vita. Gli aumenti di capitale Juve e non solo, anche le ultime sessioni di calciomercato vanno proprio in quella direzione. Juventus vuole dimezzare il rosso entro il prossimo anno ed estinguerlo entro i prossimi due anni. Formalmente quindi Juventus non rischia la retrocessione nemmeno di fronte a quelli che sono i rilievi di Procure Consob. L'atto stipendi però non finisce qui perché sempre l'articolo 31 dice anche che la società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti è punita con l'ammenda da 1 a 3 volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto cui può aggiungersi la penalizzazione di 1 o più punti in classifica. 1 o più significa anche 100 sono d'accordo con voi. Quindi se vogliamo parlare di rischio e retrocessione per la Juventus tecnicamente non stiamo dicendo completamente un'eresia ma significa anche riconoscere come colpevole Juventus all'interno di un processo sportivo che ancora non è iniziato. Trovare prove vere e significative di illeciti compiuti dai dirigenti Juve applicare la massima condanna alla Juventus sulla questione quindi da 1 o più i punti che servono per far retrocedere. Quindi sì tecnicamente Juventus potrebbe anche essere retrocessa ad oggi ma ha la stessa valenza di dire che domani il sole potrebbe non sorgere scientificamente vero ma probabilmente meno. Le intercettazioni in cui dicono è peggio di calciopoli a livello legale non contano niente perché non c'è niente di illecito all'interno di quella frase. Torniamo sempre al punto di partenza perché l'hanno detta? I dirigenti avranno fatto davvero qualcosa di grave? Se sì pagheranno come giusto che sia. Oggi non sappiamo nulla non è stato provato nulla. Allo stesso tempo anche altre squadre hanno avuto problemi col pagamento degli stipendi durante la pandemia Covid tra le big c'era anche l'Inter. In caso di processo sportivo è quindi probabile che vengano inserite all'interno del caldorone anche altre squadre e non significa che saranno comunque colpevoli. Il rischio a livello sportivo quindi passa dalla manovra stipendi effettuata dalla Juventus nel 2020. Juventus aveva decretato di aver fatto questa cosa non è che Juventus nega di aver fatto questa cosa come tanti mi stanno scrivendo no Juventus ha dichiarato di aver fatto una manovra stipendi. Poi è ovvio che Juventus in questo momento sta dicendo consideriamo lecito quello che abbiamo fatto e questa cosa viene invece contestata da Consobe Procura. Vediamo cosa succederà perché la partita si gioca tutta lì per questo Juve si sta tutelando con l'immissione in società di figure tecniche come il neopresidente e commercialista Gianluca Ferrero. Sì ma la Juve è quotata in borsa sì ma Agnelli e gli altri si sono dimessi vero Juventus è quotata in borsa ma il codice di giustizia sportiva non si preoccupa di questo è un regolamento che viene applicato a tutte le squadre è proprio perché Juventus è quotata in borsa ci sono state le dimissioni del CDA il CDA si è dimesso perché approvando questo bilancio avrebbe corso il rischio di reiterazione di reato spesso si confonde il processo sportivo con quello penale che sono due cose completamente diverse Agnelli Nedved Paratici Arriva Bene potrebbero risultare colpevoli all'interno del processo penale e la Juventus innocente in quello sportivo oppure viceversa non è che le due cose sono collegate e attenzione perché dal punto di vista penale si rischia la reclusione per diversi anni quindi perché il CDA si è dimesso per questo Juventus è comunque persona giuridica e in caso di riconoscimento del reato dovrebbe corrispondere comunque a una sanzione pecuniaria non si parla di punizioni a livello sportivo per un procedimento penale ma moralmente non si sono mossi bene questo è tutto un altro discorso la moralità e la legalità sono da sempre la faccia della stessa medaglia soltanto opposta sicuramente Juventus non ha lavorato bene negli ultimi anni e ha gettato al vento un numero spropositato di milioni di euro il covid ha svegliato Juventus come una sorta di doccia fredda lì la situazione si è complicata ma già da prima della pandemia si regalavano soldi a destra manca tra trattative e rinnovi di contratti di alcuni giocatori la pandemia quindi si influito è tanto sulla Juventus ma anche a livello dirigenziale si è sbagliata e non poco e queste cose erano evidenti sotto gli occhi di tutti anzi erano già stati denunciati da quella parte di tifoseria un pelo più razionale credo personalmente che la dirigenza Agnelli sia andata alla grande fino all'inizio del campionato 2018-2019 poi qualcosa si è rotto anche complice l'addio di Marotta che ha messo a nudo tutti i limiti strutturali della società sempre personalmente aggiungo che il non sostituire Beppe Marotta con una figura diversa dalla promozione di Fabio Palatici sia stato l'errore più grande di tutta la presidenza Andrea Agnelli da lì in poi infatti si è andati a peggiorare sempre dal punto di vista sportivo e anche da quello economico e non credo che sia una coincidenza e non credo che soltanto il covid sia la risposta e queste intercettazioni ce lo stanno facendo capire una società che lavora bene non è costretta o obbligata a fare due aumenti di capitale per 700 milioni di euro nel giro di due anni questa ragazzi è una cosa che mi porterò nella tomba e continuerò sempre a dirla e a tal proposito vi lascio in descrizione due video anzi due link di due video che ho fatto in passato intitolati tutti gli errori della dirigenza e oggi tanti piccoli tassellini tante piccole cose nominate in quel video sembrano un rare vendetta riassunto la juve rischia la retrocessione diretta con gli elementi a disposizione oggi no la juve rischia dei punti di penalizzazione sì legati al discorso stipendi ci sarà processo sportivo e si valuterà agnelli e gli altri rischiano grosso dal punto di vista penale sì ci sarà processo penale e si valuterà le intercettazioni ad oggi hanno palesato prove importanti o altro no soltanto piccoli pezzi che decontestualizzati fanno vendere giornali o fanno cliccare sugli articoli ma ad oggi non abbiamo nulla di realmente rilevante considero la juventus innocente assolutamente no la giustizia farà il suo corso sicuramente però ad oggi la juventus non è nemmeno colpevole è assolutamente senza senso continuare a fare processi prima di quelli reali o senza prove e documenti alla mano questa è la legge la giustizia farà